Grazie Presidente, ne utilizzerò molti meno. Abbiamo ritenuto che fosse fondamentale inserire un elenco di piazze che siano da preservare per il cosiddetto eventuale fenomeno del tavolino selvaggio che si potrebbe andare a creare. Sono le piazze più rappresentative del centro della nostra capitale, vanno da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna fino a Piazza Montecitorio, quindi sono le piazze che noi riteniamo debbano mantenere un decoro pur lasciando lo stesso la possibilità agli esercenti che hanno lì la loro attività commerciale di richiedere questi ampliamenti di metratura per i tavolini esterni. Pensiamo sia importante dare anche questo segnale per questa città. Grazie. Grazie a lei, Consigliera.